Tac, buongiorno a tutti, una lezione molto seria dedicata agli anni 80 e 90 una playlist molto classic che va a ripercorrere dei cover, delle remix di quegli anni lì dentro questa lezione qua c'è un allenamento in fartlek orientato abbastanza all'agilità ci sono quattro blocchi di lavoro che viaggiano dai 4 ai 10 minuti per intendersi siamo tutti intorno agli 8-10 minuti a parte l'ultimo blocco che è 4 minuti l'obiettivo fondamentalmente è liberare la mente liberarsi dai pensieri per poter bruciare un po' di calorie e fare questa lezione, ascoltarsi questa playlist che è molto carina ok? Nulla altro da aggiungere tanto è ben disegnata dietro questo grafico che si vede e non si vede ok? Quindi io direi che possiamo partire siete pronte? Mi fate un cenno? Pronti? Siete pronti? Mi fate un cenno? bene? Ecco, grazie del cenno via, partiamo, mi raccomando sfoghiamoci bene abbiamo una grande possibilità sfoghiamoci bene 3, 2, 1, via e, 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 e sì, sì, sì oh, oh, oh ci sente bene? oh, oh, oh cosa dite? tutto a posto? tutto ok? mi fate emozionare l'avete accesi cardio? non ce l'avete? fatelo regalare in età te lo spedisco io, va bene? dovrei avercelo ok? allora, quindi abbiamo capito che l'obiettivo oggi è, sì, l'allenamento ma ci dobbiamo godere questa playlist prima di tutto, ok? ci sono lezioni più tecniche non che sia una passeggiata questa però a livello musicale è più easy oh, mi raccomando, eh questa dobbiamo dare il massimo dobbiamo liberare la nostra energia solo il gesto va bene così bene così ci vuole un po' di abbronzatura un po' di resistenza piccoli cremetti di resistenza sì sorriso, eh sforziamoci sforziamoci sforziamoci, sì ritmo ritmo e ha dato con un po' di resistenza cominciano ad avere un po' di trazione come se avessi stessi percependo un po' di vento contro poco poco un po' di vento contro si aumenta pian pianino con la cadenza andiamo ad adattare la resistenza l'obiettivo è riscaldarci ok? riscaldare il nostro corpo jump in flat jump in flat facile facile ok? e otto tempi giusto per equilibrare il gesto no? cosa dite? sì o no? sì o no? otto tempi 3 2 1 jump 5 6 7 si vuole ancora uno dai e si 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 resta qua più tondo più tondo si respira rimani qua le facciamo ancora vai su 2 3 4 5 6 7 8 8 8 9 8 10 10 11 12 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 18 18 18 19 19 19 20 19 20 20 19 20 21 22 22 22 23 22 23 23 24 25 25 26 26 7 e Bene, resto qua, come va? Chiudo un po', lascio la trazione nelle gambe, mantengo questo calore attivato dal jump Siamo in ambiente cover, abbiamo ancora 4 minuti per poterci scaldare ok, andiamo sui running, controllato va bene, vengo Su Ok, cero Stringo Vado di nuovo su e Ok, rientro Com'è? Sto tirando l'elastico Stringi un po' Ok, ho la resistenza nelle gambe, 75% eh Sento questo calore che pian pianino dal petto sale la testa Adesso Cerchiamo di non andare troppo oltre, libero un po', running, vai Facile Facile Due minuti Due minuti Come va? Facciamo gestirla Hi Si Hi Si Tra 75-80% ok La gestiamo, leggera Ci siete? Facile, ok Libera energia Libera l'energia Hi Siedo solo un attimo Stabilizzo Per far tornare di nuovo sui running, ok? Siedo un attimo Chiudi un po' Un po' più di stabilità Come va? È di scaldamento questo, eh Un minuto e abbiamo finito Resettiamo Andiamo su Si Vai Su queste ginocchia, vai Calibra il movimento Lo coordino Vai con la musica È di scaldamento È di scaldamento cosa cheuri Sì Si Calor che sale È di scaldamento È di scaldamento Si Orgèle Siedo, è libero, bene, facciamo scendere il cuore velocemente, come è andata? No, sentiamo il calore dentro? No? No? Ah, ok, no, io sono in live, ho bisogno della vostra empatia, se no mi facciamo una registrata. Aria, aria, fatemi un cenno, yeah, sì, grinta, la grinta di Freddy, ok? La grinta di Freddy, siamo pronti a dare dei crossing per far salire il cuore, tutt'è l'obbico, ok, in questa prima parte? Siamo pronti a partire? Stringo, ok, 65% raggiunto, siamo pronti a stringere un crossing veloce, ok, stringo, vai, pompa, pompa, pompa. Dai, dai, sì, sì, elegante, vai, energia, energia circolare, cinetica, sì, tutto a liberare, libero, wow, com'è andata? Lo riproviamo, eh? Tutto a subito, ok? Tutto a subito, ok, stringo, 50 secondi, pompa. Attenzione, che poi si trasforma in salita, stringi, no crossing, pompa. Dai, 25 secondi, sta salendo il cuore? Dai, pompa. Libero. Come è andata? Tringo. Trasforma in salita? Via, via, rallenta. Stringi e metti la menudina nelle gambe, ok? Stringi. Running, resistenza. Hey! 75%, ok? Ricerchiamolo. Hey! Ce l'hai? Hey! Ritmo di dance. Ok? Siede un attimo, stabilizzo. Dai, dai, dai. Effetto insabbiamento. Effetto insabbiamento. Il running ci fa uscire dall'insabbiamento. 3, 2, 1. Hey! Hey! Calore che si consolida. Hey! 5 minuti e 20 per andare a raggiungere il primo nostro picco. Che vedete il pizzo? Il pizzo del primo blocco. Hey! Rietro. E... Ok? Sì. Sale di livello. Sale di livello. Hey! Pringo. Non stai perdendo niente, vero? Pompare. Pronto running. Obiettivo 30%. 3, 2, 1. Su! Hey! Hey! Tutto robico ancora, eh. Attenzione. Rietro. Si va sempre in su. Ok. Ok. Stabilizza. Stabilizza. Ah, ah, ah. Dai, stabilizza. Lo so, è dura. Ci vuole potenza muscolare. L'hai agganciata? Hey! 8%, si va ancora più su. Disco cover. Hey! Pronto running. Mi comincio a sentire il fiato qua. Il calore è qua. 3 minuti per raggiungere il piccolo. Ci proviamo? 3, 2, 1. Running. Hey! 3 minuti. Hey! Buttati di pezzo sulla musica. Hey! Sì, lo stringo. Rengi. Non perdere niente. Non perdere niente. Su questa ginocchia, vai. Lavoro questo bell'impasto. Hey! Non perdere niente. Spingo il tiro. Spingo il tiro. Nella musica. Hey! Non parti a forciare. Pronti? Running. Non parte a forciare. 3, 2, 1. Running. Hey! Hey! Sì, sì. Sì. Ok, scivolo. Prima mano, poi l'altra. Avanti. 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 90 secondi. Vai, 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 vai. Rilascia la schiena a spalle. Collo. Prendi aria. Avanti. 90 secondi. Hey! Oltre 85. Ce la fai? Non lo so. Pum, pam. Pum, pam. Un minuto. Si ce la fai? Non metto la resistenza. 45 secondi. Siamo nei 19. Lo sento. Lo sento. Hey! 30 secondi. Wow! 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 10 secondi. Rientro. Viverò. Come va? Prima. vera faticaccia andata. Due minuti, ok? Scusate la cresta. Ci siamo? No, perché bisogna fare il secondo adesso. Eh? Siamo in ambiente cover. Siamo in ambiente cover remix. Eh? E... Facile. Allora... Togo... Arrivo al 65%. E poi... Mantengo lì, ok? E... Ci siamo con il cuore? Con la passione? Eh? Bene. Incominciamo con l'agilità. E finiamo con la salita. Eh? Va bene? Un po' di running, giusto per mantenerci... Lì. Non sotto il 65%. Eh? Facile. Wow! Facile. Ok? Lo manteniamo semplice. Bene. Sì. Si inizia... Con i jumping. Tiè. Sì. Con i jumping. Va bene? Costruiamo con i jump. Cosa dite? Vi piacciono i jump? No. Oh. Bene. Oh, oh, oh. Dai, che sono belli i jump. Oh, oh, oh. Sì. Sono belli i jump. Io toglierei anche il sellino mentre li faccio. Cosa dite? Si usava una volta. Eh, 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 eh. Quattro tempi. Uno. Quattro. Te, te, due. Ci siamo sul pezzo? Te, tre. Te. Ultima. Quattro. Ok. Ci siete? Rimaniamo qua. Qua. Un po' di resistenza. Abbiamo perso la ginetta. Hai rotto la bici. Jump. Siete pronti? Quattro tempi. Ok? Con un po' di resistenza, eh. Giusto per dare stabilità a questo gesto. Vai. Oh, no. E. Superi le ginocchia. Dai. Due. Che bello. Immagina di non avere il sellino. Tre. E. Quattro. E. Possiamo andare avanti? Stringi un po', sì. Dai, che viene meglio stringendo. E. Dai. E. Che bello. Sì. E. Ultimo. E. Ok. Resto qua. Cadenza. Cadenza. Respiro. Sì. Passione. Stiamo iniziando a costruire. Nove minuti e mezzo. Il nostro blocco. Ok? Quattro tempi. Ci siete? Ora. O no? E. Mi raccomando, è equilibrato. E. 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 Ancora. E. Ok. Resto qua. Resto qua. Cadenza. Respiro. Chiudo un po'. Più stabile. Più dentro dei binari. Come va? Passione, eh? Se no non li facciamo. No. Se no non li facciamo. Quattro tempi. Tre. Due. Uno. Vai. Uno. E. Dai. Nella musica. Due. E. Tre. E. Ultimo. Quattro. Ok. Resta qua. Dai. Cadenza. Cadenza. C'è tutta una gestione qua. Eh? Non deve salire troppo il cuore. Non deve salire troppo. Ok? Quattro tempi. Eh. Uno. Eh. Dai. Su bene queste ginocchia. Movimento agile. Equilibra. Destra e sinistra. Eh. Dai. Eh. Leggerezza. Eh. sette minuti e mezzo ancora. Dai. Ci siamo. In questo momento dobbiamo gestire la salita del nostro cuore. Man mano che ci avviciniamo alla fine del tempo, dobbiamo ottenere l'obiettivo cardiaco. Resta qua. Ok? Mentre adesso è difficile mantenersi bassi, dopo sarà difficile portare sul cuore. Eh? E se no, se è facile. Ok? Stringo. Pianura. 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 Stringo. Eh. Ok. Bene Andiamo avanti Cambiamo tecnica Libero un po' Mi preparo al Running flat Sempre aerobico Vado su Running Facile facile Su Com'è ce l'avete? Ok, giù Sarà prolungato questo running flat Ve la sentite? Ve la sentite? Ok Ci riproviamo La conoscete? Ok, siedo Siamo pronti al running prolungato? Ci proviamo insieme Mi raccomando Sciolti da ogni tensione Su Vai Leggero Trova leggerezza Come la state gestendo? Mi raccomando Qua Locco Facile Come sta andando? Sciogli le tensioni Libera la mente Leggerezza Quello che ti comunica la musica Facile Mi serve solo un attimo Per riprendere l'energia E riprovarci Meglio di prima Ok Siedo No, no, no Aerobico, eh E' ancora tutto aerobico Me ne accorgo dal fiato Ci riproviamo 90 secondi di running flat Dai Fattibile 3 2 1 Su E' ancora tutto Leggerezza Tutto ok? Mi raccomando i polsi è tutto morbido Eh sì È la testa che ti può liberare dal peso Devi regolare bene la testa Più indietro Vado ad alleggerire tutto il mio corpo Più indietro Sì Il mio culetto sfiora il sellino Sì È lì vicino Sulle ginocchia Effetto skip Dai, leggero Leggero È un arrivare Non tutto subito, un arrivare Sì Toi Da Sì, leggerezza Leggerezza Nelle spalle, nel collo, nei polsi Nei gomiti Ok Siedo Stresi Eh Non perdere tutto quello che hai costruito Con questo saggio running Eh Ci siete? Mini gruppetto Pumpa Entriamo nel sound Con la resistenza Sì, entra nel sound Affondati nella resistenza Sì Vai, vai, vai Pumpa Andiamo su Ce n'è abbastanza resistenza? Ce n'è abbastanza resistenza? Vai Lavora, lavora Sì Non andare su il cuore Pumpa Un minuto e dieci Dai Facciamo andare su Un minuto e dieci Riusciamo? Sì Le mani si allungano Arretta Arretta Il bacino Spingo di gluteo E quattro cipite Eh Così, così Qua Pumpo Allungo Schiena dritta Collo morbido 15 secondi 15 secondi Sì Rietro Libero 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 Come va? Bene, no? No E covriamo con un boom Va bene Eh, facile Due minuti Se sono troppi Incomincio a giampettare Per mantenermi lì No? Si torna in pre-agilità Ok? Penultimo blocco Un po' più di pianura qua Ok? E Come sta procedendo? Gestibile? Buono Ok Siamo Oltre la metà dell'opera Dobbiamo essere pronti eh Dobbiamo essere pronti, pronti, pronti Di nuovo Facile Ecco Appena tocco il 65% Quindi ho recuperato Devo attestarmi in qualche modo E fare in modo di non scendere troppo No? Quindi la cosa più facile E fare qualche piccolo stacco in running O jump Ok? Liberamente 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 Ho trovato un altro nome Liberamente Devo segnare le cose Perché dopo me li metto Siamo pronti? Pronti? Eh? Siamo pronti? Ok Mi raccomando eh Subito Pianura In aumento 100 pedalate Cerchiamo di portare su il cuore E mantenerci semplici Ma portare In cominciare a portare su questo cuore In 8 minuti 8 minuti 8 minuti di lavori Di lavoro E Sì Sempre con le cover Ok? Di quei anni Anni 90 Anni 90 no? Allora facciamo un piccolo stacco in running Per prendere la rampa E poi stabilizziamo la pianura Ci proviamo Running E Sì 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 Ce l'abbiamo? Ok Siedo Stringo un po' Stringo un po' Cadenza in aumento Cadenza in aumento La senti? Vai 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 Metti potenza nelle gambe Attenzione che si arriva fino a 105 pedalate Poi trasformiamo La nostra crescita in montagna Con un pezzo pazzesco Pazzesco Ok, resistance Dai, sfogati sulla resistenza Sì Sulle ginocchia Vai, vai, vai Stringi Ce l'hai? E Stringi E Umpa Ce l'hai? Pronto e jump Cazzo ho fatto qua Va bene, andiamo avanti Jump, non ci pensare Quattro tempi Sta salendo Super robico, eh Jump, vai Uno E Due Pronto a trasformare in salita Ultimo Ok, finita Dai Jump, eh Uno Due Dai, continua Cinque Sei Sette E Scegli le tensioni dalla schiena e dal collo Sette Vai, su E Vai E Ok, di nuovo stabilizzata Riesco? Un attimino Rimani qua Stabile Stabile I Stabile I Stabile Ultimo standing Ultimo standing Due minuti Due minuti amici Sentilo E passione E Fuori Dopo solo musica Sulle note Sulle note Meno di 90 secondi Dai Un minuto amici Un minuto Non si bolla Avanti Rimango pulito Rimango pulito Rimango pulito E Vieni Trento Trento secondi Dai E Venti Rientro Libro 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 Amici Dai Ultimi Quattro minuti Quattro minuti Di salita Emotional Ok Era a fartlek Era un percorso misto Una di quelle strade Non troppo codificate Ma molto emozionali Che scatenano i sogni La facciamo all'ultima compassione No Ho bisogno di empatia Sono un animale Che ha bisogno di empatia Ah grazie Quello che capita Sempre empatia è Bene Sì Empatia Empatia Vivo di empatia Ci facciamo stolti ma Ok Bene No perché tra 15 secondi Si riparte Subito in resistenza Ok Subito in resistenza Abbiamo poco tempo Per mettere la massima passione Che possiamo E chiudere questa lezione In bellezza Stringo 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 Via Ti metto nella resistenza All'inizio non sento niente Poi incomincio A sentire la spinta La trazione Incomincio a sentire la sfida Entra la musica Si amalgama il tutto No? Sta succedendo? Andiamo un attimo in running Giusto per rompere questo momento di piattume Vai Rompiamo solo un attimo il piattume E poi ritorniamo seduti Con un'altra consapevolezza Sopra sfida Rientro Rientro Oh è meglio no adesso Stringi Dai L'empatia adesso deve essere Con il momento qua Con i tuoi strumenti La bici La resistenza La musica La musica La melodia L'istruttore che hai davanti I compagni che hai a fianco E Jumping Otto Tempi Si 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 pian pianino Senti la Come monta Come monta pian pianino Ok Ce la costruiamo 3 minuti e 30 Per ottenere Un lieve Oltre 80% Jumping E Uno Due Eh eh Cinque Sei Sette La costruisco Ponto Entro in un circolo Conteggio Melodia Quadratura della musica E Vai E E Avanti Sei Sette Continuo con i miei jumping Va bene Ok Io continuo con questa quadratura Anche se cambia la melodia Ci provo Va bene E Resto sempre aperto Ok Resto sempre aperto Il nuovo E Aperto a quello che mi viene incontro E E C Sei Sette Sì però deve salire il cuore Dai Abbiamo due minuti e venti Stringi un po' Sempre aperto Sette Vai su E Uno Mi raccomando Le tensioni via Eh Lo so È difficile fare tutto insieme Eh Ok Rientro E perciò il ritmo Preparati lo stand di mountain Dai Dai Fini alla fine Eh È tua Falla come vuoi Ok Falla come vuoi È tua È tua È tua È tua È tua Dai Puoi anche chiudere gli occhi E portarla a termine Perché chiusi Respiro aperto Vai 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 Dai vai vai Dai vai vai Manca un minuto eh Manca un minuto Manca un minuto Sono giudato Pensate che io lo scremo 40 pollici adesso Pensi a tanti gli differiti Vai differiti 30 secondi di feriti Finiscila come vuoi Finiscila come vuoi E Vai Cos'è diversa? Sì, è diversa È diversa Libera Libera Facciamo la tripletta Andiamo avanti tutta la notte Finita Finita Desaparecitos Vai, vai, vai Energia, energia cinetica Sì Pian pianino entriamo in cool down Non troppo down, ok? Cool Va bene? Scendiamo Approfittiamo di queste endorfine Per scendere dolcemente E Nel ritmo Pam 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 Ok Ritocco il 65% Poi mi attesto un mattino lì Ok Recupero le energie Mantengo il ritmo Mantengo un po' di resistenza Siamo pronti a fermarci? Pian pian pianino Pian pianino Pian pianino libero Rumpo al 21 Rumpo al 21 Quanto niegare Me llama Nel desaparecido Perdi Il gano Il siglo Quanto niegare A posto? Quanto niegare Posso fermarmi? Nel desaparecido Siamo riusciti a liberare la testa, a liberare l'energia Era l'obiettivo di questa lezione Sì, c'era anche l'obiettivo tecnico allenante Però questa lezione era un po' diversa Era un po' più libera, no? Libera di viaggiare con la testa, con la musica No? Meno codificata Meno obiettivi tecnici, performanti Più liberamente Liberamente, liberamente No, mettermi gli appunti con l'iPad qua Il blocco è note Mi vengono, no? C'è la respirazione, mi vengono un sacco di idee Però dopo me ne dimentico quando scendo Me li devo segnare subito Mi fare gli screenshot alla testa Ok Come? Liberiamo? Quello dite? Ci fermiamo? Ok, completamente scarichi Pronti a fermarci Oh, com'è il cuore? È rientrato? Sì, dai Sotto il 65% Bene Fermo le gambe Ok 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 Subito Ispiro Apro Resto velo stabile col bacino Vado su con le mani Stacco le vertebre Ho la sensazione Allungando le mani verso l'alto Di riallungare La mia schiena Respiro Ok Ad ogni presa di aria Vado a A ereggermi di nuovo A portarmi dritto Perché la posizione da ciclista Tende a chiudersi Invece mi riapro Con queste prese d'aria Respiro Prendo aria Guardi in alto Guardo le mie mani Sento l'allungamento della schiena Espiro Rimango col petto aperto Ok Ancora Prendo aria Espiro Ok Subito rotazioni Per le mie spalle Uno Due Tre Cambio Uno Due Tre Gamba sinistra giù Braccio sinistra giù Lungo la gamba 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 destra avanti Ok Schiena dritta Allungo il collo Spalla bassa aperta Ok Torno su Cambio Mani su manovre Subito in piedi Posizione da running Vaccino retroverso all'insù Tallone della gamba dietro basso Vado ad allungare il pulpaccio Schiena dritta Per il petto aperto Ok Cambio Ok Siedo Siedo Scendo dalla bike Ok Fare il collo del piede Unisco le gambe Rilascio pian pianino Cambio Ok Rilascio Allargo leggermente le gambe Prendo aria Mi allungo verso l'alto Come prima Espiro Chiudo le gambe Ultima E giù Grazie Alla prossima Alla prossima